Quando un gruppo di persone ridono, ognuno tende a dirigere lo sguardo verso la persona che gli piace di più. Quindi se vuoi sapere se il tuo partner o la tua partner piace a qualcuno del tuo gruppo sociale e viceversa, osserva chi guarda chi quando nel gruppo scoppia una risata. Le persone che stanno mentendo normalmente sbattono le palpebre molto di frequente, nascondono i palmi delle mani, spostano frequentemente il loro sguardo verso destra e usano frasi molto lunghe ed elaborate. Se pensi che qualcuno ti stia guardando e vuoi capirlo senza guardarlo a tua volta, fingi di sbadigliare e osserva con la coda dell'occhio la sua reazione. Se sbadiglia anche lui ti stava guardando, o lei. Il motivo per cui masticare un chewing gum ci rende meno nervosi è dovuto al fatto che il nostro cervello pensa che siccome stiamo masticando stiamo mangiando e se stiamo mangiando significa che non siamo in una situazione di pericolo immediato. Per essere sicuro di non far sentire una persona a disagio quando la guardi negli occhi, assicurati di guardarla solo per il tempo necessario a capire di che colore agli occhi. Spesso alle spalle di un barista o di un addetto al servizio clienti eccetera c'è uno specchio perché in questo modo è meno probabile che i clienti siano maleducati o aggressivi. Il motivo di ciò è che le persone non amano guardare se stesse quando sono maleducate o arrabbiate. Se non ami particolarmente il tuo lavoro pianifica sempre qualche attività divertente per il mercoledì sera. In questo modo a partire da lunedì saprai che qualcosa di bello ti aspetta solo due giorni dopo e quando appunto arriva il mercoledì dopo soli altri due giorni c'è il weekend. Se vuoi piacere a qualcuno chiedegli di farti un piccolissimo favore talmente piccolo che sarebbe quasi impossibile per lui rifiutare. A livello inconscio questa persona ti registrerà come appunto una persona che gli piace proprio perché ti sta facendo questo piccolo favore.